gentili telespettatori buona giornata la meloni sconcertata per la superficialità dei censori in rai dovevano parlare subito di soldi allora qual è il punto secondo un retroscena giorgia meloni incredula al telefono con il direttore dell'approfondimento corsini rai reo di aver parlato di un no da motivazione economica prima di essere sbugiardato dallo screen che parlava di motivi editoriali sulla disdetta del contratto con scurati c'è scritto motivi editoriali quindi vuol dire motivi di linea editoriale linea politica chi dà la linea politica il governo la rai è sotto il controllo del governo lo dice la legge dello stato la legge italiana e così questo corsini prima parla di motivazione economica ma la motivazione c'è scritto proprio fotografato il documento motivi editoriali perché non si è fatto subito passare il messaggio dei troppi soldi chiesti da antonio scurati che poi capite i troppi soldi stiamo parlando ti do 1.500 no voglio 1.800 stiamo parlando di 300 euro per un colosso come la rai che fa miliardi quindi diciamo che la parte economica insomma doveva servire per camuffare la censura perché di censura stiamo parlando allora la rai quella di sinistra che c'è stata prima di meloni censurava non vi ricordate il contratto di orsini strappato orsini aveva un contratto con la rai con il programma della berlinguer vi ricordate e orsini è stato cacciato praticamente perché diceva delle cose che non piacevano al governo in quel momento perché non su alcuni temi non bisognava scostarsi dal pensiero unico orsini diceva aveva delle sue opinioni stato cacciato dalla rai chiaro no oggi lo fa il governo meloni dove una rai sotto il controllo del governo c'è chi va lì a parlare male del capo del governo che è il capo della rai praticamente e quindi come abbiamo visto anche stanno venendo fuori altri casi di censura dove persone andavo volevano andare in rai a dire che la meloni era una fascista che la meloni faceva voleva cancellare la legge 194 che stava ci si stava avvicinando ci girava intorno tutte queste partecipazioni sono state censurate la meloni non si capacita del della superficialità dei censori però questo è un problema diffuso in italia non c'è superficialità solo lì in rai c'è superficialità dappertutto dappertutto politici superficiali conduttori televisivi superficiali televisione di stato superficiale oggi quelli che comandano in italia quelli che dirigono le aziende pubbliche private eccetera eccetera quelli che dirigono programmi televisivi e via dicendo hanno una superficialità così diffusa da far venire i brividi e allora se tu stai censurando un intervento perché parla male della meloni la rai è sotto il controllo del governo è una legge dello stato casomai bisognerebbe cambiare la legge dello stato voluta dal pd nel 2015 da renzi quindi evidentemente è la legge che non funziona in italia perché questa legge dice che chi governa controlla e gestisce la televisione di stato e ovviamente chi va a parlare male lì del capo viene censurato ma la meloni dice dovevano parlare subito di soldi come dire come si fa a essere così superficiali andate a censurare uno un livoroso rancoroso di sinistra e gli scrivete nella motivazione proprio bello scritto lì motivi editoriali ovviamente quella quella quell'email che ho scritto salta tutto per motivi editoriali lo screenshot cioè la fotografia è stata diffusa su un sacco di giornali di sinistra dove c'è scritto motivi editoriali non motivi economici no non andiamo d'accordo per motivi economici lasciamo stare amici come prima no motivi editoriali motivi editoriali e la premier rimane sconvolta nel dire ma come cioè qui siamo all'abc stiamo facendo una censura e dovevate parlare subito di motivo di soldi motivi economici perché sennò così siamo stati scoperti e sbugiardati su tutti i giornali ecco la meloni è sconcertata per la superficialità degli yes men messi in rai non è che magari sono yes men messi in rai magari sono quelli che c'erano prima anche che da un giorno all'altro diventano yes men della meloni da yes men di sinistra yes men di centrodestra è un attimo basta l'importante è conservare il posto di lavoro poi tu fai lo yes men di quello che di quello che che passa il convento ecco e così la meloni è sconcertata ma dovevano parlare subito di soldi perché adesso la praticamente il senso è la vostra superficialità la mancanza di 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 e come si può dire stai censurando e gli vai a dire motivi editoriali ma un po di furbizia un po di sale in zucca no e così la giornata di sabato 20 aprile si ricorderà come una delle più complesse per la rai degli ultimi anni dove una censura che era già in atto da due anni viene scoperta per la superficialità di alcuni yes men ve l'ho detto è oggi una società molto ma molto superficiale vasco rossi cantava oggi sono tutti più furbi di me in una canzone quella furbizia sta completamente sparendo oggi sono tutti più superficiali di me altro che sono tutti più furbi di me caro vasco oggi sono tutti più superficiali di me una superficialità disarmante che poi porta a questi a questi errori proprio banali infantili grazie a tutti e buon proseguimento di giornata